Perché il 2024 passerà alla storia come l'anno più sconvolgente del Grande Fratello? Scopriamolo insieme! Stasera inizia la nuova edizione del Grande Fratello, ma il dramma è già alle stelle. Dopo la squalifica di Lino Giuliano per un commento omofobo su Instagram, altri due concorrenti rischiano di salutare la casa prima ancora di entrare. La regina del gossip, Dejanira Marzano, ha svelato che uno dei concorrenti ha cercato di chiamare la sua ex usando un telefono non autorizzato. Un vero e proprio passo falso per le regole del GF, ma non finisce qui. Un altro concorrente è stato beccato in stanza d'albergo con una collega. Regolamento violato? Assolutamente sì. Un inizio a dir poco movimentato per questa stagione del GF. Saranno squalificati? Restate sintonizzati su Canale 5 stasera per scoprirlo. Il dramma è assicurato. Voi cosa ne pensate? Avranno una seconda chance o dovranno abbandonare la casa? Fateci sapere nei commenti. Non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Il dramma è assicurato.